Un tavolo permanente in prefettura per monitorare il fenomeno del caporalato costituito nell'ambito del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. Il prefetto ha convocato tutti gli attori interessati e dal tavolo sono emersi spunti di riflessione importanti. L'organismo sarà un punto di raccordo e riferimento a livello provinciale per guardare con attenzione il fenomeno, analizzare dati e bisogni. Tanti temi trattati a partire dalla regolarità della certificazione delle imprese e aziende, passando per l'intermediazione tra aziende e lavoratori e passando pure per l'opportunità della diffusione nei centri di accoglienza di filmati sul tema, oltre a fare progetti di legalità da condividere con le scuole, per le associazioni è un punto di partenza importante. Quello di ieri è stato un percorso, l'inizio di un percorso culturale che deve servire a fare cultura tra le imprese agricole, tra i lavoratori e anche una reciproca conoscenza con le istituzioni. Da parte nostra c'è ampia disponibilità a concorrere a fare sì che questa cultura delle opere fatte bene, delle buone opere sia pervasiva anche nel mondo agricolo. Sia nella fase repressiva, ma quella è già una collaborazione che istituzionalmente codiretti ha da sempre, sia anche nella fase preventiva, proprio fare cultura e trasmettere conoscenza agli imprenditori agricoli. Nella Marsica purtroppo il fenomeno è molto radicato, si deve lavorare tanto? Nella Marsica ci sono stati dei casi e quello che mi sono permesso di dire al tavolo è giusto riconoscere che ci sono questi casi e anche giusto riconoscere che non siamo in una situazione così degradata come magari in altri contesti del territorio nazionale. Però, come diceva il signor Prevetto, esiste una zona grigia e questa zona grigia è giusto che non ci sia. Grazie.